Musica Poco prima di registrare questo video ho fatto una lista delle cose che volevo trattare in questo Breaking Italy e questa notizia non c'era perché non l'avevo vista nonostante il fatto sia una notizia di ieri perché secondo me se ne è parlato poco ed è il caso di parlarne di più quindi ne parliamo noi Sono ShutaHateYou, questo è Breaking Italy, spero abbiate passato un buon mercoledì Quelle che state guardando sono immagini di sparatori ed incursioni che avvengono tra giovani e giovanissimi di Napoli implicati nelle guerre tra clan in quello che apparentemente si chiama il rione Concal di Napoli nella periferia orientale della città E io sono arrivato a questo video tramite un articolo di Roberto Saviano che sapete si occupa di questi fenomeni e scrive su Repubblica ma il punto è che dopo che ho visto questo video ho iniziato a cercare e mi sono effettivamente reso conto con i miei occhi di qualcosa che Saviano dice nell'articolo ovvero che la maggior parte delle persone che hanno poi riportato questa notizia l'hanno riportata scrivendo robe tipo come in Gomorra la gente si spara per strada e il tutto è interessante perché effettivamente quando è uscito Gomorra anche noi ne abbiamo parlato e abbiamo principalmente puntato l'attenzione sulle critiche come al solito che sono piovute sulla serie che peraltro è bellissima e dovreste andare a vedere ma il punto è che le critiche ruotavano attorno al fatto che la realtà fosse stata distorta fosse stata resa molto più violenta è che la condizione di un certo tipo di persone che vivono un certo tipo di vita specialmente in alcuni rioni di Napoli non sia effettivamente così come viene dipinta e invece apparentemente il video mostra un'altra realtà che credo sia il caso perlomeno di guardare e di guardarla almeno due volte ragionando sul fatto che quelle cose che vengono registrate di nascosto dai carabinieri ai quali peraltro va tutta la mia stima per l'impegno che mettono nel combattere questo tipo di fenomeni sono realtà vere che la gente deve vivere è costretta a vivere cosa che è abbastanza palese durante i video quando ci sono le sparatorie e dopo le sparatorie quando palesemente le persone ricominciano a camminare per strada come se nulla fosse successo perché come al solito, come per ogni cosa l'abbiamo sempre detto a tutto si fa l'abitudine quindi a un certo punto devi adattarti devi vivere e vivi anche in un ambiente nel quale nessuno dovrebbe essere costretto a vivere e non stiamo parlando di esteri stiamo parlando di casa nostra e di certo io non sono qui a dirvi come dovremmo risolvere il problema non sono qui a fare il politico a lanciare annunci a lanciare slogan a dare la colpa a qualcuno ho soltanto due cose da dire per le persone che vivono quelle realtà e non vogliono vivere quelle realtà mi dispiace moltissimo per voi davvero davvero tanto sta gente vive in modo orribile e diciamoci la verità anche questi ragazzini che girano con le pistole sugli scooter fanno gli assalti cioè che vita di merda è cioè che vita di merda state facendo amici miei a tutti gli altri questa roba bisogna perlomeno guardarla non bisogna dimenticarsene anche perché adesso che c'è internet è molto facile vedere queste cose è molto facile che si spargano in maniera più uniforme senza che per forza debbano essere mostrate in un telegiornale con una spiegazione di qualche esperto che magari ti dice che la situazione è sotto controllo è gestibile non è così grave l'abbiamo sentito per decine d'anni e palesemente no per fortuna che in italia ci sono le leggi contro il possesso delle armi da fuoco perché altrimenti magari queste persone girerebbero armate continuamente con le armi in bella vista tipo ovunque e per fortuna che da noi ci sono le leggi che lo impediscono parlando di roba completamente diversa che poi sarebbe dovuta essere l'intro di questo Breaking Italy sarà lunghissimo questo Breaking Italy oppure taglierò tutto perché sono già molto in ritardo e voi non lo sapete ma sto registrando con praticamente i piedi nell'acqua non so se lo potete sentire probabilmente no non fa niente adattiamoci sono Aquaman questa persona qui però è fantastica è al contrario del sottoscritto Aquaman slash Shy mostra una forza di volontà che di certo io a 22 anni potevo dimenticarmi perché questo ragazzo inizialmente era così e adesso è così è una di quelle storie che mostra dei cambiamenti fisici molto importanti che io peraltro trovo di grande ispirazione seguo un sacco di gente su Instagram che fa questo tipo di cose segue questo tipo di percorsi in questo caso è lo stesso adesso il ragazzo era obeso e in qualche anno dopo essersi sottoposto alla procedura medica di riduzione dello stomaco ha iniziato un lungo processo di diete di allenamenti e recentemente proprio come un'altra persona della quale abbiamo parlato mesi fa ha fatto un video mostrandosi senza maglietta il ragazzo è infatti abbastanza popolare sui social network specialmente su Tumblr dove ha pubblicato il video in quanto artista, musicista robe di questo tipo ed essendo anche un bel ragazzo ha un certo seguito di un certo tipo e ha comunque deciso di fare un video nel quale si toglie la maglietta quindi tutta la mia stima a questo ragazzo penso ci vorrebbero molte più persone come lui non solo che hanno una forza di volontà così grande ma che anche usano le proprie esperienze per parlare di realtà come l'incapacità di accettare se stessi e di accettare il proprio corpo anche se poi internet e internet e quindi un sacco di persone si sono commosse e hanno creato un fondo per dargli dei soldi per andare sotto i ferri e quindi c'è questo mi sembrava il caso di lanciarvi in faccia questa notizia qui parlando di altre cose fantastiche che ho trovato quest'oggi quest'uomo vince il premio miglior persona su Breaking Italy del mercoledì perché parliamo di un consigliere comunale abruzzese di nome Gianni Padovani il signor Padovani ha infatti avuto la sfortuna di tamponare una macchina dei carabinieri per evitare la multa e anche qualcos'altro oltre la multa visto che l'uomo girava con la patente scaduta non è stata rinnovata e quindi guidava senza patente tendenzialmente ha comunque pensato bene di scaricare le colpe sul fratello gemello fingendo di essere lui e quindi fantastico in altre cose che però non sono fantastiche secondo me perché poi secondo alcuni ho avuto un lungo diverbio con la mia ragazza in merito a questo che è contentissima di sta roba e io invece la trovo come propinarti uno yogurt scaduto praticamente e dirti pure di dire grazie mentre lo mangi nuove stagioni di X-Files o perlomeno nuove puntate di X-Files con i protagonisti originali della serie e che avrebbero già firmato per 6 puntate e quindi dopo 5 milioni di anni avremo delle nuove puntate di X-Files con gli attori molto invecchiati anche se effettivamente l'attrice che faceva Dana Scali non so come si chiama però tutto è andato bene il tempo non è passato apparentemente anzi però non lo so mi sembra un po' propinare una minestra riscaldata cioè a un certo punto quando hai fatto il capolavoro finale hai costruito la capella Sistina non è che arrivi dopo 100 anni e dici boh vabbè aggiungiamoci dei graffiti ormai la capella Sistina l'hai fatta lasciala lì non tocca fai un'altra cosa a meno che non pensiamo che lo stiano facendo per migliorare ancora questo progetto e non per i moltissimi soldi che sicuramente pioveranno dal cielo semplicemente al sentire il suono della parola X-Files nuove puntate un'altra cosa interessantissima che sfida soltanto è uno studio che è stato fatto in merito alla potenza del THC nella marijuana che gira per le strade attualmente ma soprattutto si riferisce a quella che legalmente è possibile acquistare in Colorado che da oltre un anno ha reso disponibile la vendita e quindi le persone la comprano e giustamente dopo che si inizia a vendere qualcosa arrivano i controlli dello stato salda fuori che questa marijuana ha dei livelli di THC quindi di sostanza attiva altissimi e non è la prima volta che sentiamo parlare di questa cosa ed è dovuta principalmente al fatto che negli anni sono stati fatti degli incroci tra le piante e degli studi per cercare di renderla il più potente possibile specie dopo 80 anni e più nei quali la sostanza è stata illegale e quindi per venderla sotto banco cerchi di vendere la quantità più potente possibile al maggior prezzo possibile non c'è ovviamente in un mercato nero lo spazio per i micro dosaggi quando c'era il provvizionismo era lo stesso la maggior parte delle cose che venivano prodotte erano super alcolici quindi è interessante vedere come il mondo cambierà in tal senso perché cambierà il mondo in tal senso anche in Italia dieci giorni fatti poi è stata fatta una proposta scrivere una legge per decriminalizzare e legalizzare essenzialmente l'uso della marijuana in Italia e quindi è normale che a un certo punto quando una roba diventa legale lo stato voglia sapere che cosa effettivamente stia circolando nei negozi e nelle strade cosa i cittadini stiano assumendo quanto è sporca la roba che stanno assumendo peraltro molto sporca apparentemente tipo di funghi e metalli pesanti insomma robe e visto che abbiamo citato l'Italia mi sembrava giusto riportare che alcuni giornali e testate italiane stanno parlando dello smantellamento di una cellula di estremisti islamici condotto dalla Digos di Brescia che avrebbe arrestato tre uomini molto attivi nel territorio nel cercare delle persone che abbracciassero la causa dello stato islamico addirittura sino ad arrivare alla redazione di un testo di propaganda del califato islamico in italiano quindi traducendolo dall'arabo in modo da poter prendere più italiani possibile e farli diventare dei foreign fighters che andassero a combattere in Siria sarebbe perlomeno interessante comunque leggerlo questo testo perché vorrei vedere che cosa ti propongono quando ti dicono dai vieni a combattere una battaglia che stiamo palesemente perdendo e in effetti praticamente tutto il mondo ci odia addirittura gli altri terroristici odiano e probabilmente non andrà bene questa roba però abbiamo dei biscotti e facciamo dei video fighissimi nei quali poi uccidiamo la gente andiamo fuoco però i video sono fighissimi join now e la gente dice ok ma questo gentaglio è tutto quello che avevo da dirvi per oggi grazie per aver guardato grazie a Roberto e Vito che sono i nostri alfieri per oggi grazie mille a tutti per continuare tutti i giorni a guardare Breaking Italy a condividerlo io non faccio nessuna pubblicità la mia pubblicità siete voi quindi grazie a tutti per tutto ci vediamo domani grazie a tutti